Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare e i soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora quindi gli venivano davanti e gli dicevano salve re dei giudei e gli davano schiaffi Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro ecco io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro ecco l'uomo al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono crocifiggilo crocifiggilo disse loro Pilato prendetelo voi e crocifiggetelo io non trovo in lui nessuna colpa gli risposero i giudei noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio all'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura ed è entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù di dove sei ma Gesù non gli diede risposta gli disse allora Pilato non mi parli non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce rispose Gesù tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto per questo che mi ha consegnato nelle tue mani a una colpa più grande da quel momento Pilato cercava di liberarlo ma i giudei gridarono se liberi costui non sei amico di Cesare chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare udite queste parole Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale nel luogo chiamato litostroto in ebraico gabbatà era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno Pilato disse giudei ecco il vostro re ma quelli gridarono via via crocifiggilo disse loro Pilato metterò in croce il vostro re risposero i sommi sacerdoti non abbiamo altro re all'infuori di Cesare allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso grazie a tutti